Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Inter Milano per la stagione 22-23 in edizione FAN. Finalmente la maglia dell'Inter. È questo il commento più gettonato sul web dopo la presentazione della nuova maglia dell'Inter 2022-23 in quella che sarà la stagione numero 25 firmata Nike. Dopo un biennio di sperimentazioni con la maglia triculare e la divisa pelle del serpente, finalmente tornano le classiche strisce nerazzurre per la gioia di tanti tifosi. Le ricche nerazzurre sono più larghe come negli anni 60. Sopra di esse scorre un pannello con le strisce in orizzontale. Il collo più alto invece ricorda la divisa Nike del 2000-2001. Debutta finalmente anche lo stemma I.M. con le tinte neraazzurre, sormontato dalla stella dei 19 scudetti colorata di bianco. Questa maglia è un classico del calcio italiano. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Bella, rifinita bene in ogni dettaglio. Peccato un po' per la taglia perché mi è arrivata un po' più grande. Avevo chiesto una M, questa è arrivata in una L e non è proprio della mia vestibilità. Qui in alto vedete il costo che, vi ricordo, include anche le spese di spedizione. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che è di un'ottima qualità e ha dei tempi di spedizione molto veloci. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione FAN. FAN.